Max, antivigilia del match a Trento, altro test importante, match di Superliga, ma comunque per noi test importanti in vista del grande impegno della Coppa Italia a fine mesi. Sì, sarà una partita molto complicata e questo ci può solo far bene proprio in vista di quello che è il nostro obiettivo, cioè la Final Four di Coppa Italia. Stiamo lavorando per questo, stiamo allenando sia tecnicamente che fisicamente proprio in previsione della semifinale di Contopiacenza e avere un match così importante e difficile contro Trento ci può aiutare per mantenere sempre il livello molto alto. Trento lo incontriamo per la quarta volta e come diceva anche coach Anastasi è un po' la squadra che ci ha messo più in difficoltà, anche tu dal campo hai percepito questo? Sì, ci mettono in difficoltà perché sono un'ottima squadra, noi l'abbiamo spuntata in questa stagione tre volte su tre, ma abbiamo dovuto studiare parecchio in Supercoppa, al Mondiale e anche qui in casa perché hanno un grande talento, diversi giocatori, è una squadra molto fisica ma allo stesso tempo molto tecnica, quindi chiaramente ci possono mettere in difficoltà, l'hanno già fatto e lo faranno. Io l'ho sempre considerata una delle squadre più forti del nostro campionato e non solo, insomma si sta confermando. Ultima cosa, come sta la squadra e qual è il segreto un po' di giocare queste partite, comunque non contano da un punto di vista di classifica, il segreto di tenere alta l'asticella del ritmo e soprattutto della concentrazione? No, ma non c'è un segreto, noi in questo ultimo mese abbiamo affrontato Modena, Milano, Piacenza, Trento, sono partite difficili contro squadre forti e quindi basta solo sapere di dover affrontare una squadra del genere per allenarti bene, per avere degli stimoli, per essere concentrato. La squadra sta bene, fortunatamente non ci sono grosse problematiche a livello fisico e anche mentalmente sta molto bene, tutti si sentono partecipi, tutti hanno voglia di giocare, questo credo sia fondamentale. Grazie Max.